The Next Talent, gli hairstylist del futuro sotto i riflettori di Cosmoprof Allora io mi trovo qui oggi perché l'anno scorso ho partecipato al The Next Talent e sono stato uno dei vincitori che poi hanno rappresentato in pedana e ho collaborato con Carlo Bai, quindi ho avuto questa bellissima esperienza, più che altro anche di capire lui come persona, che è un grande stilista e è stato anche bello fare questo show con tanti altri colleghi, una bella emozione Siamo qui in compagnia di Paolo Libero. Paolo, raccontaci, cosa significa per te essere qui al Next Talent di Cosmoprof? Per me significa, diciamo, innanzitutto potermi esibire, una grande occasione e confrontarmi professionalmente con altri personaggi dell'airstyling e quindi poter così, in questo modo, anche crescere professionalmente François, cosa significa per te stare al The Next Talent di Cosmoprof? Ok, significa per me una nuova esperienza, qualcosa di diverso come quello che faccio nel mio salone, sarà davvero diverso qui Siamo in compagnia di Pasquale Peluso. Pasquale, raccontaci, cosa significa per te stare sul palcoscenico di Next Talent? Intanto anche quest'anno grande performance, caratterizzata da quattro stilisti di cui faccio parte anch'io È stato molto emozionante dal momento che è cominciato il concorso, così come l'epilogo di questa sera Grazie a tutti